ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo su fortnite in tema uno sfida speciale ovvero turchese ragazzi questo è un video avvertenza per dirvi che 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 molto raramente turchese ci sarà in un mio video solo uno mi stanno prendendo le spalle aiuto ragazzi come ho fatto vabbè comunque ragazzi il video voglio parlare ah giusto ciao gherly queen wow che bella la skin gherly queen oh no non lo saprei che c'era no allora ragazzi il video finisce qui spero che vi sia piaciuto lasciate un bel like e ci vediamo nel prossimo video ciao